Ci sono anche le mucche libere, torno in casa. Mamma e figli ora vi pare siano. Vediamo dove è andata via piccolina. Eccola, tornano al giardino di asa le mucche. Ciao amore. Ciao amore. Buongiorno. Buongiorno piccina. Ciao. Eh? Che c'è? Curiosa sei. Oh come sei curioso. Eh? Sei proprio familiare te. Eh? E di me amore. E qua c'è la pista che dicevamo prima. Che diceva prima. La puoi vedere ma ci so. Sto col filmato. Questa è come un canino. Questa è la pista. In sabbia buona. Tirava. E poi c'è addirittura che va fino lassù in cima. Che non si vede da qui. C'ho il bisellino qui che mi segue. Eh? Amore. Eh eh eh. La mamma uguale. Ecco. Abbiamo visto anche la squiglia Dovercini. Con il bisellino che sembra il canino quella mamma. Che la segue. Ecco. E via. A posto. Ecco. E per la relazione, così, è un canino. Ecco. E c'è un canino!